5, 4, 3, 2, 1, buon inizio! Dai eh, siamo lì in mezzo, Matti! Uno lì in mezzo, bravo, dai va bene! Dai Matti, fatti vedere! Fatti vedere Matti! Gioca a piede, gioca! Meglio a piede, falla andare! Più forza sui passaggi, a piede! Dai Matti! Dai Matti! Dai Joele, dai Domas! Giorgio, mi senti? Giorgio! Dai, 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 dai! Tira, tira! Tira, tira! Bravo! Vincor! Vincor! Bravo! Attacca, attacca! Bravo! Dai, dai santo! Dai, dai, dai! Chiè! Chiè, giochiamo in avanti! Ok! Giro, giro qua! Giro qua! Dai Matti, dai che ha sbagliato! Passaggi, va bene! Vai Matti! Vai Matti! Vai Matti! Dai, dai, angolo! No, vien! No, vien! No, vien! Dai, vien! Dai, meglio! Meglio, meglio Joe! Va bene, dai! Vai Matti! Vai Matti! Thomas! Cerca Joe! Passaggio semplice, Tom! No, no, vien! 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 Dai, dai! Dai Joe! Metti in piedi! Dai, dai! Eccolo! Gioca, gioca con gli uomini! C'è Thomas! L'Unieri! C'è Thomas! L'Unieri! Bravo, bravo Vien! Oh, il Unieri! C'è Thomas! Non ha fidato davanti! C'è Thomas! L'Unieri! Dai, dai, dai! Io ragiono! Sono andato! Ti ha capito! Ti ha capito! Ti ha capito! Ti ha capito! Dai, dai, dai! Dai, dai! dai, dai dai! È sicuro! È sicuro! È sicuro! Non ha fidato! Lo marca! non fa niente No, no, no. No, 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 no. No, no, no.